Saltare il pitti vuol dire perdere i maggiori clienti importanti e vuol dire ridurre il fatturato forse del 50% a che punto chi la compra è un'azienda che non ha più valore? Nessuno. Rischia di morire di burocrazia, oltre che di una gestione molto discutibile negli ultimi dieci anni, un altro marchio storico del tessile aretino, la Cantarelli in amministrazione straordinaria dal 2015 è a un passo dalla chiusura. Dopo la prima asta bandita dal commissario Leonardo Romagnoli andata a deserta, i lavoratori non hanno saputo più nulla. Noi dovremo lavorare in continuità e purtroppo invece vediamo che il blocco degli acquisti e il blocco delle commesse non possono garantire la continuità a questa azienda che secondo me avrebbe tutti i numeri per andare avanti. Prima di Pasqua poteva esserci lo stop definitivo alla produzione ma i sindacati hanno strappato la riapertura dei cancelli il 26 aprile e l'apertura di un tavolo presso la prefettura aretina. Abbiamo chiesto al prefetto che possa rappresentare al commissario la nostra esigenza di avere un dialogo più serrato sulle questioni che attengono la prosecuzione dell'attività nel rispetto della riservatezza che il commissario vuole mantenere in ordine alla sua attività che prosegue dal momento che l'incarico per la vendita ad oggi questo ci è dato sapere si conclude a settembre e non è ancora concluso. Vediamo se però sarà un bando o ci sarà una trattativa privata. A questo farà la differenza sicuramente ed è quello che a noi ci interessa sapere nell'arco dei 15 giorni. Circa 230 le maestranze ancora in forza alla Cantarelli. 130 sono al lavoro, gli altri sono in cassa integrazione. Oggi per la prima volta sono scesi in piazza tutti i livelli. Noi abbiamo autonomia per circa una settimana per tutti i materiali sia che riguardano i tessuti sia quello che può riguardare foderami sia anche gli accessori più banali che servono ad un'azienda. Noi andiamo avanti una settimana. C'è da sensibilizzare, credo, il commissario che se lui vuole vendere questa azienda la deve vendere in un certo senso attiva perché lui più continua a bloccarci negli acquisti e poi automaticamente ci fermiamo perché non c'è neanche più la carta per stendere il tessuto. Ma ci sono gli ordini? Certo che ci sono. Perché i soldi ci sono e ci sono per fare tutta la stagione. Non capiamo perché lui non li vuole spendere, tra virgolette.